Sul palco Marisa Francesca, la numero 6, che dà Animali Fantastici e Dove Trovarli? Boh! Il titolo Animali Fantastici e Dove Trovarli? Boh! Non serve boh! Allora, Marisa Francesca, la numero 6, che dà Animali Fantastici e Dove Trovarli? Boh! Nel senso che il trovi a Bologna, a quella che diceva la targa! Interpreta Newt Scalander! Nel senso che il trovi a Bologna, a quella che diceva la targa! Grazie! 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 Grazie!